Eccoci giunti al terzo capitolo del libro Modelli di cultura di Ruth Benedict dal titolo L'integrazione culturale. Si possono portare infiniti esempi della diversità di una cultura dall'altra. Un campo del comportamento che certe società ignorano e talvolta non riescono neppure a concepire può diventare in altre così fondamentale da influenzare tutto il costume sociale, così che anche le situazioni più estranee possono essere affrontate solo nei suoi termini. Tratti privi di intrinseca relazione e storicamente indipendenti si fondono in un tutto inscendibile, dando occasione a modi di comportamento che non hanno parallelo in regioni in cui non sia avvenuta quella fusione. Come naturale conseguenza, uno stesso modo di comportamento è giudicato diversamente in culture diverse. Potremmo supporre che quando si tratta di un uomo che toglie la vita ad un altro tutti i popoli siano concordi nella condanna. Invece talora un omicidio va senza biasimo perché tra paesi vicini le relazioni diplomatiche sono state interrotte. Altrove il costume vuole che un uomo uccida i suoi due primi figli o dà ad un altro diritto di vita e di morte su sua moglie o impone a un figlio di uccidere i genitori prima che siano vecchi. Può accadere che siano uccisi coloro che hanno rubato un pollo o i bimbi che mettono prima i denti superiori o che sono nati di mercoledì. In certi popoli una persona è torturata per aver causato accidentalmente la morte di qualcuno, in altri la cosa non ha nessuna conseguenza. Anche il suicidio in un luogo può essere preso alla leggera, come in certe tribù in cui accade di frequente che qualcuno si uccida per un lieve rimprovero, in un altro può essere il gesto più alto e più nobile di un uomo saggio, mentre in un terzo ancora il racconto stesso di un tale atto viene accolto con incredula allegria come cosa assolutamente inconcepibile. Può anche essere considerato un delitto punibile dalla legge o un peccato che offende gli dèi. Ma la diversità di costumi nel mondo non è un fatto che possiamo solo passivamente registrare. L'autotortura in un luogo, la caccia alle teste in un altro, la castità prematrimoniale in una tribù e la licenza degli adolescenti in un'altra non sono una serie di fatti privi di relazioni di cui dobbiamo accogliere con sorpresa la presenza qui e l'assenza altrove. Anche i tabù del suicidio e dell'assassinio, pur non riferendosi a una norma assoluta, non per questo sono fortuiti. Quando avremo capito chiaramente che il comportamento in quanto condizionato dalla cultura è locale, è stato elaborato dall'uomo ed è estremamente variabile, non ne avremo esaurito il significato. Esso tende anche ad essere integrato e per integrazione intendiamo questo. Una cultura, come un individuo, è un insieme più o meno coerente di pensieri e di azioni e nell'ambito di ogni cultura si delineano certi scopi caratteristici che possono essere soltanto suoi, non condivisi da nessun altro tipo di società. Perseguendo tali scopi, ogni popolo dà alla sua vita forme sempre più ferme e, in proporzione alla loro forza, gli eterogenei modi di comportamento si fondono in un'immagine sempre più coerente. raccolti da una civiltà ben integrata, i tratti di comportamento peggio assortiti diventano caratteristici dei suoi scopi particolari, spesso attraverso le più improbabili metamorfosi, e possiamo spiegarceli solo dopo aver compreso quali siano le molle del pensiero e del sentimento in quella società. La tendenza all'integrazione non può essere ignorata come un particolare privo di importanza. Il tutto, come la scienza moderna non si stanca di ripetere a molti propositi, non è soltanto la somma di tutte le parti, ma il risultato di una sistemazione particolare e di una interrelazione che ha dato vita a un'entità nuova. La polvere da sparo non è soltanto la somma di zolfo, carbone e salnitro, e neanche la conoscenza più profonda di tutti e tre questi elementi, in tutte le forme in cui compaiono nel mondo, potrà spiegare la natura della polvere da sparo. Le proprietà del composto non erano presenti in nessuno dei suoi elementi e il suo comportamento è infinitamente diverso da quello di ciascuno dei tre elementi in altre combinazioni. Anche le culture non sono semplicemente la somma dei loro elementi costitutivi. Possiamo sapere tutto sulle forme di matrimonio, danze rituali, riti della pubertà in una tribù, e tuttavia non capire nulla di quella cultura come un tutto che ha usato quegli elementi ai propri scopi. In vista di questi scopi una cultura sceglie, tra gli elementi offerti dalle civiltà, dalle regioni circostanti, quelli che può usare, scarta quelli di cui non può fare uso, mentre altri ne riplasma secondo le proprie necessità. Naturalmente non è detto che questo processo sia sempre cosciente, ma non tenerne conto nello studio dei modi in cui si configura il comportamento umano significherebbe rinunciare alla possibilità di una interpretazione intelligente. L'integrazione culturale non è qualcosa di mistico, è, in fondo, lo stesso processo con cui nasce e si mantiene in vita uno stile artistico. L'architettura gotica, prendendo origine da una semplice preferenza per l'altezza e per la luce, diventò, ad opera di un qualche canone di gusto sviluppatosi nell'ambito della sua stessa tecnica, l'arte tipica e omogenea del XIII secolo. Scartò gli elementi incongrui, ne modificò altri secondo i propri scopi e ne inventò altri ancora che si accordavano con il suo gusto. Quando descriviamo storicamente il processo, uniamo inevitabilmente forme di espressioni animistiche, come se lo sviluppo di questa grande forma artistica fosse stato guidato da una scelta e da un proposito. Ma ciò dipende dalle difficoltà del linguaggio. Non vi fu scelta cosciente né un proposito. Ciò che al principio era soltanto una leggera tendenza di forme e tecniche locali, si espresse sempre più vigorosamente, si integrò in moduli sempre più definiti e portò infine all'arte gotica. Ciò che è accaduto in arte accade anche nelle culture intese come un tutto. L'eterogeneo comportamento diretto a scopi diversi, guadagnarsi da vivere, sposarsi, far la guerra, adorare gli dèi, è elaborato in modelli coerenti in accordo con inconsci canoni di scelta che si sviluppano entro la cultura stessa. Alcune culture, come alcuni periodi artistici, non riescono a raggiungere l'integrazione e di molte altre sappiamo troppo poco per capire i motivi che le dirigono. Ma culture di ogni livello di complessità, anche semplicissime, ci sono riuscite ed è prodigioso vedere quanto siano diverse l'una dall'altra queste culture che si somigliano solo nel fatto di aver conseguito una perfetta coerenza. Gli antropologi hanno dedicato molto più lavoro all'analisi dei fattori culturali che non allo studio delle culture intese come complessi articolati e questo dipese in gran parte dalla natura stessa delle prime descrizioni etnologiche. L'antropologo classico non aveva una conoscenza di prima mano dei popoli primitivi. Era uno studioso da tavolino che lavorava sugli aneddoti narrati dai viaggiatori e dai missionari e sui resoconti schematici dei primi etnologi. Da tanti particolari era possibile delineare la distribuzione del costume di strappare i denti, per esempio, o della divinazione attraverso l'esame delle viscere, ma non vedere come questi elementi si inquadrassero nelle diverse tribù in configurazioni caratteristiche che davano forma e significato ai costumi. Opere come il ramo d'oro e i normali volumi di etnologia comparata sono esami analitici di elementi separati e ignorano tutti gli aspetti dell'integrazione culturale. Il matrimonio o il lutto sono illustrati da particolari di comportamento scelti indiscriminatamente dalle culture più diverse e il risultato finale dell'esposizione è una specie di mostro di Frankenstein con un occhio destro preso dalle isole Figi, un occhio sinistro dall'Europa, una gamba dalla terra del fuoco e una da Tahiti e dita delle mani e dei piedi da regioni ancor più diverse. Una figura simile non corrisponde a nessuna realtà passata o presente e la difficoltà fondamentale è quella stessa che si avrebbe se, poniamo, la psichiatria si limitasse a un catalogo dei simboli di cui gli psicopatici possono far uso, ignorando lo studio dei modi di comportamento sintomatico, schizofrenia, isteria, disordini maniaco-depressivi in cui quei simboli sono inquadrati. La parte che gioca un elemento isolato nel comportamento dello psicopatico, la misura in cui esso opera dinamicamente nell'insieme della personalità e la sua relazione con tutte le altre esperienze sono diversissime da un malato all'altro. Se ci interessano i processi mentali potremmo capire qualcosa solo riferendo il simbolo particolare alla configurazione globale dell'individuo. Studi antropologici come quelli cui abbiamo accennato sono troppo lontani dalla realtà viva. Se ci interessano i processi culturali potremmo capire il significato di un particolare del comportamento solo sullo sfondo dei motivi, dei sentimenti, dei valori caratteristici di una cultura. La cosa prima ed essenziale, così si pensa oggi, è studiare la cultura viva, conoscere i suoi abiti di pensiero e la funzione delle sue istituzioni e una tale conoscenza non può derivare da dissezioni e ricostruzioni post-mortem. La necessità di uno studio funzionale della cultura è stata sottolineata più e più volte da Malinowski, il quale critica i soliti studi della diffusione di un costume come dissezioni post-mortem di organismi che potremmo invece studiare nella loro qualità di essere vivi e funzionanti. Uno dei primi e migliori tra i quadri a grandezza naturale di popoli primitivi che hanno reso possibile l'elettronologia moderna è la lunga descrizione fatta da Malinowski degli abitanti delle isole Trobriand nella Melanesia, però Malinowski, nelle sue generalizzazioni, si contenta di sottolineare il fatto che i vari tratti stanno nel contesto culturale cui appartengono in un rapporto vivente ed hanno determinate funzioni. Poi generalizza i tratti caratteristici delle Trobriand, l'importanza degli obblighi reciproci, le caratteristiche locali della magia, la vita familiare, come se fossero validi per tutto il mondo primitivo, invece di riconoscere quella configurazione delle Trobriand come uno tra molti tipi osservati, ciascuno dei quali con una economia, una religione, una vita familiare differenti. Lo studio dei fenomeni culturali non può comunque continuare a basarsi sull'identificazione di particolari costumi locali con un generico primitivo. Gli antropologi stanno volgendo la loro attenzione dallo studio della cultura primitiva a quello delle culture primitive e le conseguenze di questo passaggio dal singolare al plurale cominciano a diventare evidenti. L'importanza dello studio della configurazione globale, di contro alla sola analisi delle parti, diventa sempre più evidente in tutti i campi della scienza moderna. Wilhelm Stern ne ha fatto alla base del suo lavoro in campo filosofico e psicologico, insistendo sulla necessità che la totalità indivisa della persona sia presa a punto di partenza e criticando gli studi atomistici consueti nella psicologia sia introspettiva sia sperimentale. Tutta la scuola della Structure si è dedicata a un lavoro di questo genere in campi diversi. Wöringer ha mostrato quale differenza fondamentale questo atteggiamento determini nel campo dell'estetica. Egli paragona all'arte rigogliosa e raffinata di due periodi, il greco e il bizantino. La critica di un tempo, che definiva l'arte in assoluto identificandola con i modelli classici, non poteva in nessun modo capire i processi artistici che si danno nelle pitture o nei mosaici bizantini. Ma le opere che appartengono a un dato stile non si possono giudicare nei termini di un altro, perché ciascuno dei due tentava di raggiungere scopi completamente diversi. I greci tentavano di dare espressione nella loro arte al proprio amore dell'attività. Cercavano di dar corpo all'identificazione della loro vitalità con il mondo oggettivo. L'arte bizantina oggettivò invece l'astrazione, un profondo sentimento di estraneità di fronte al mondo esterno. Per comprendere queste due forme d'arte bisogna tener conto non solo della differenza di abilità artistica, ma soprattutto della diversità di intenzioni. Le due forme erano configurazioni opposte, ciascuna in sé integrata, ciascuna ispirata a forme e modelli incredibili per l'altra. La psicologia gesta-altista ha fatto un lavoro molto interessante dimostrando quanto sia importante scegliere a punto di partenza il tutto anziché le parti. Gli psicologi di questa scuola hanno dimostrato che nella più semplice percezione sensoriale nessuna analisi dei singoli frammenti di percezione può spiegare l'esperienza totale. Non basta dividere le percezioni in frammenti oggettivi, la struttura soggettiva dell'esperienza, le forme derivanti da esperienze passate, hanno un'importanza fondamentale di cui non si può non tener conto. Bisogna tener conto delle proprietà globali e delle tendenze alla globalità, in aggiunta al semplice meccanismo associativo di cui la psicologia si è accontentata sin dal tempo di Locke. Il tutto determina le parti, non solo il loro rapporto, ma la loro stessa natura. Fra due tutti c'è una discontinuità di genere e per comprendere bisogna tener conto delle loro diverse nature, al di sopra dell'individuazione degli elementi simili che sono entrati a far parte dell'uno e dell'altro. Il lavoro della scuola psicologica gesta-altista si è svolto soprattutto in quei campi in cui le dimostrazioni si potevano ottenere per via sperimentale in laboratorio, ma le conseguenze vanno molto al di là delle semplici dimostrazioni ottenute. Nel campo delle scienze sociali, l'importanza dell'integrazione e della configurazione fu sottolineata nella scorsa generazione da Wilhelm Diltai. L'interesse principale di questo filosofo andava alle grandi filosofie, alle grandi interpretazioni della vita, soprattutto in Daiti, Pender, Weltham, Schaung e gli analizza parte della storia del pensiero per dimostrare la relatività dei sistemi filosofici che egli vede come espressioni della varietà della vita, modi, atteggiamenti integrati nei cui fondamentali categorie non si possono risolvere l'una nell'altra e combatte vigorosamente l'idea che una qualsiasi di esse possa essere definitiva. Non dice che gli atteggiamenti di cui parla siano condizionati da determinate forme di cultura, ma poiché sceglie a oggetti delle sue discussioni grandi sistemi filosofici e periodi storici come quello di Federico il Grande, il suo lavoro ha condotto a un sempre più consapevole riconoscimento dell'importanza del condizionamento culturale. Questa nuova consapevolezza ha avuto la sua espressione più compiuta nell'opera di Oswald Spengler. Il suo Tramonto dell'Occidente non prende il titolo dal tema che vi è trattato delle idee destino, come Spengler chiama le configurazioni della civiltà, ma da una tesi che non ha importanza per questa nostra discussione, che cioè queste configurazioni culturali siano come un organismo, destinate a vivere quel tanto e non più. Spengler deriva questa tesi dalla constatazione che i centri della civiltà occidentale si sono spostati nel corso dei secoli e che i momenti di massimo sviluppo si succedono a intervalli periodici e cita a sostegno l'analogia, che non può mai essere più di un'analogia, con il ciclo nascita-morte dell'organismo vivente. Ogni civiltà, secondo lui, ha una vivace giovinezza, una vigorosa virilità, una decadente vecchiaia. Quando si parla del tramonto dell'Occidente si pensa generalmente solo a questa interpretazione della storia, ma l'analisi delle opposte configurazioni della civiltà occidentale è molto più valida e originale. Spengler distingue due grandi idee destino, quella apollinea del mondo classico e quella faustiana del mondo moderno. L'uomo apollineo concepiva la propria anima come un cosmo ordinato in un gruppo di parti perfette. Nel suo universo non c'era luogo per la volontà e il conflitto era un male che la sua filosofia deplorava. L'idea di uno sviluppo intimo della personalità gli era estraneo ed egli vedeva la vita come minacciata dall'ombra di una catastrofe che poteva intervenire brutalmente dal di fuori. I suoi momenti tragici erano distruzioni irragionevoli e inspiegabili del lieto paesaggio dell'esistenza normale. Invece la visione che ha di se stesso l'uomo faustiano è quella di una forza che lotta senza tregua contro gli ostacoli. Vede il corso della vita individuale come uno sviluppo interiore in cui le catastrofi dell'esistenza giungono come il coronamento inevitabile delle scelte ed esperienze del passato. Il conflitto è l'essenza stessa della vita. Senza di esso la vita non ha significato. Senza di esso non si può giungere ai valori più alti dell'esistenza. L'uomo faustiano brama l'infinito e tenta di raggiungerlo attraverso l'arte. La faustiana e la pollinea sono dunque due interpretazioni opposte dell'esistenza e i valori a cui l'una dà luogo sono estranei e indifferenti all'altra. La civiltà del mondo classico era fondata sulla visione appollinea della vita, mentre il mondo moderno ha elaborato in tutte le sue istituzioni le conseguenze della visione faustiana. Spengler tocca di sfuggita anche l'egiziano che si vedeva come se camminasse lungo lo stretto sentiero della vita, inesorabilmente segnato per giungere infine davanti ai giudici della morte, e il mago persiano col suo rigoroso dualismo di corpo e anima. Ma i grandi temi della sua opera sono l'apollineo e il faustiano, ed egli studia la matematica, l'architettura, la musica e la pittura in quanto espressioni di queste due grandi opposte filosofie di periodi diversi della civiltà occidentale. L'impressione confusa che suscitano in noi i libri di Spengler è dovuta solo in parte al suo modo di esporre, ancor più è la conseguenza della complessità irrisolta delle civiltà di cui egli si occupa. Le civiltà occidentali, con la loro diversità storica, la loro stratificazione in professioni e classi, la loro incomparabile ricchezza di particolari, non sono ancora comprese abbastanza profondamente da poter essere riassunte in un paio di formule. Al di fuori di certi distretti circoli intellettuali o artistici, l'uomo faustiano, se esiste, non se la dice troppo bene con la nostra civiltà. Ci sono i forti uomini d'azione, i babbit accanto ai faustiani e nessun esoriente quadro etnologico della nostra civiltà può ignorare questi tipi ricorrenti. Descrivere il tipo d'uomo rappresentato dalla nostra civiltà come un estroverso sempre impegnato in una istancabile attività mondana che inventa, governa e, come dice Edward Carpenter, prende, riuscendoci per un pelo, un treno dopo l'altro, è tanto convincente quanto definirlo un faustiano bramoso di infinito. Da un punto di vista antropologico, il quadro tracciato da Spengler delle civiltà del mondo risente dello sforzo di trattare la società moderna con le sue stratificazioni come se fosse così essenzialmente omogenea come una cultura primitiva. Allo stato presente delle nostre conoscenze, i dati storici della civiltà europea occidentale sono troppo complessi e la differenziazione sociale troppo profonda per consentire la necessaria analisi. Per quanto suggestiva sia la tesi spengleriana dell'uomo faustiano per uno studio della letteratura e della filosofia europee, per quanto giusta la sua insistenza sulla relatività dei valori, la sua analisi non può essere definitiva perché si potrebbero delineare quadri altrettanto validi. Guardando retrospettivamente, sarà forse possibile caratterizzare in modo soddisfacente un insieme grande e complesso come la civiltà occidentale, ma nonostante l'importanza e la verità del postulato spengleriano di idee e destino, incommensurabili l'una con l'altra, il tentativo di interpretare il mondo occidentale nei termini di un elemento isolato per ora porta soltanto alla confusione. Una delle giustificazioni filosofiche per lo studio dei poveri primitivi è che i fatti di civiltà più semplici possono spiegare fatti sociali altrimenti sconcertanti e inspiegabili. Questo è vero soprattutto nelle forme culturali fondamentali e caratteristiche che dirigono l'esistenza e condizionano i pensieri e i sentimenti di coloro che di quelle culture partecipano. Tutto il problema della formazione del costume individuale sotto l'influenza del costume tradizionale si può oggi meglio intendere attraverso lo studio delle culture primitive. Questo non significa che i fatti e i processi che possiamo scoprire in questo modo siano applicabili soltanto alle culture primitive. Le società più sviluppate e più complesse di cui abbiamo conoscenza si configurano secondo un disegno altrettanto rigoroso e significativo ma il materiale è troppo complicato e troppo vicino ai nostri occhi perché possiamo misurarci vittoriosamente con esso. Per questa via indiretta possiamo giungere più facilmente alla comprensione che c'è così necessaria dei processi della nostra civiltà. Quando le reazioni storiche dell'uomo con i suoi antenati più vicini nel regno animali erano troppo confuse per poter servire a stabilire i fatti dell'evoluzione biologica, Darwin ricorse invece alla struttura dei coleotteri e il processo, confuso nella complessa organizzazione fisica dell'animale umano, nell'essere più semplice apparve trasparente e indiscutibile. Lo stesso si dica dello studio dei meccanismi della civiltà. Ho scelto tre civiltà primitive che voglio descrivere con una certa ricchezza di particolari. Pochi esempi di culture viste come coerenti organizzazioni di comportamento sono più illuminanti di parecchi esempi appena sfiorati per sommi capi. La relazione di motivi e scopi con i diversi modi di comportamento di fronte alla nascita, alla morte, alla pubertà, al matrimonio non potrà mai essere chiarita da uno sguardo d'insieme a tutto il mondo. Dobbiamo tenerci al compito meno ambizioso, la comprensione di alcune culture in tutte le loro sfaccettature.